Calano le adozioni di bambini a Piacenza. Nel 2012 25 minori hanno trovato casa nelle famiglie della nostra provincia, 21 di loro attraverso il canale delle adozioni estere. Ma i corsi per le coppie che vogliono avviarsi a questo percorso sono passati da 4 o 5 all'anno a un massimo di 3, segnalando che qualcosa è cambiato. Anche in questo settore la crisi economica è un deterrente e le spese per un'adozione internazionale possono toccare i 20.000 euro. Noi riscontriamo anche a Piacenza quello che si sta vedendo anche a livello nazionale, che le associazioni di famiglie adottive e anche gli enti autorizzati segnalano da un po' di tempo, cioè una certa flessione nel numero delle coppie che prendono in considerazione la possibilità di diventare famiglie adottive. Si sa che il percorso adottivo è un percorso molto impegnativo, si sa che almeno per il momento, quando il percorso adottivo sfocia in un'adozione internazionale, ha anche dei costi che possono essere un po' impegnativi da sostenere per una famiglia, soprattutto in tempo magari di crisi. Ci sono le coppie che si rivolgono al vostro sportello? Le coppie che chiedono informazioni per l'adozione sono in genere coppie non giovanissime, raramente hanno un'età che sia sotto i 35 anni, più spesso siamo magari sui 40 anni, a volte anche oltre. Questo perché di fatto ormai da molti anni si rivolgono all'adozione soprattutto quasi esclusivamente, anzi, coppie che hanno difficoltà ad avere figli, diciamo, propri per via biologica. D'altra parte dobbiamo anche dire che una coppia che intraprende la strada dell'adozione ha davanti un percorso impegnativo per arrivare all'abbinamento col bambino, ma molto impegnativo anche poi nelle fasi successive perché i bambini che arrivano nella famiglia adottiva sono bambini che logicamente portano con sé, oltre a tutto quello che occorre per allevare un figlio, anche qualche difficoltà in più, qualche sofferenza in più. Trovo saggio il fatto che la legge chieda comunque coppie che non siano in ogni caso troppo attempate, perché c'è da poi lavorare tanto con questi figli che entrano nella famiglia e per lungo tempo naturalmente.